è una lente a contatto che toglie e che mette nel messaggio prima scrivi non è niente secondo te questa è una lente di contatto lente a contatto fa così tanta paura che preferisci negare l'evidenza piuttosto che accettare che esista questa realtà non è un lente a contatto e fidati non esiste persona al mondo che vorrebbe darti ragione più di me ma io ho il coraggio per guardare in faccia la realtà che fa un po' ridere in quanto se mi cieca ti invito a fare lo stesso ciao grazie